l'intramontabile fede l'intra si nasce secondo te? ma penso di sì perché quando io capì che cosa significava amare il Palermo già mi ritrovavo a far parte di un qualcosa che era forse anche più grande di me però io abbracciai questo, chiamiamolo pure il movimento, perché era un qualcosa che andava al di là della fede calcistica, era un connubio di idee che si amalgamavano l'una con l'altro per poi sfociare in quello che era tipo l'apoteosi della domenica, cioè andare allo stadio e poter dire forza Palermo ma secondo te un ultra è un tifoso esagerato è più di un tifoso normale o è un malato di Palermo o di qualunque altra squadra? ma secondo me il tifoso tra virgolette cosiddetto normale non è da denigrare perché ognuno vive la propria passione per come se la sente noi la stessa parola ultra è un qualcosa che va al di là del normale ragion per cui noi eravamo quei giovani come direbbe la poesia erano trecento erano giovani e forti e sono morti dicevo una volta ma noi per fortuna malgrado tutto continuiamo a vivere per quello che è lo spirito che siamo riusciti a tramandare alle generazioni che sono venute dopo di noi chiaramente con situazioni diverse e quindi non potrà mai più esserci un qualcosa come era prima però quantomeno il vedere anche se in minima parte un qualcosa che cerca di fare per poter portare avanti quelle che sono state le idee del passato fa sempre piacere la maglia esiste solo la maglia? è così? oppure i giocatori i nomi i presidenti gli allenatori per te cosa esiste? per me esistono i colori soltanto due colori il rosa e il nero non posso tipo transigere da questo per me il giocatore rispettarlo ma alla fin fine viene pagato e quindi capito tu sei un lavoratore come tutti gli altri te ne vai sì mi può dispiacere però sempre in formula relativa perché tu te ne vai per me la maglia rimane cioè tu presidente non me ne frega niente a me la categoria è importante assolutamente no per quanto mi riguarda no c'è perché sennò va a farsi benedire tutto il mio credo un credo che continua a esistere dentro di te nonostante tu non frequenti lo stadio da parecchio è vero quella è una cosa che non potrà mai tipo venir meno io ho circa un anno e mezzo che non vado più allo stadio per ovvi motivi che fin tanto che ci sarà il signor Maurizio Zamparini alla guida della nostra società la mia faccia non potrà mai più entrare allo stadio e questo me ne dispiace molto perché tutte le volte che io tipo sono in prossimità della partita mi faccio il giro attorno allo stadio l'odore cercare di riassaporare quello che è l'odore dell'erba del campo e poi vado via ecco dovesse succedere tu tornerai allo stadio ho capito di sì ma c'è anche la possibilità che tu tornerai in curva e ti rimetterai le tue vecchie attrezzature da oltre non penso non penso perché è un qualcosa che per come lo vivo io per come l'ho vissuto io non potrà più esistere per come quelle che erano le situazioni di una volta fermo restando che i ragazzi che ci sono ora cercano di fare del loro meglio attenzione non è che sono qui non è un bel momento certo non sono qui a denigrare il lavoro degli altri per l'amor di Dio però ognuno vede le cose magari io li vedo diversamente da loro e quindi siamo un pochettino tra virgolette in contrasto ma sempre benuariamente senti a una certa età però si smette io ne conosco tanti ne incontro tanti perché si smette di essere ultra a una certa età ma si smette nei fatti ma non nell'animo nello spirito io come ti posso dire se ci fossero i presupposti il Totò Rambo non sarebbe mai morto sarebbe ancora vivo nei fatti ma nello spirito lo è sempre tu considera che io sono più di vent'anni che non faccio più attività reale di ultras e la gente ancora per strada ah ma tu di qua ma tu di là ma perché tu noi con te non esiste perché se in vent'anni non c'è non si è riusciti a trovare il bandolo tra virgolette della matassa vuol dire che anche io ho perso per certi versi perché non sono riuscito tipo a inculcare a tramandare quello che era il mio reale credo senti trasferte decine se non centinaia anzi diciamo centinaia però la trasferte interessa all'ultra no no ne voglio sapere una se vuoi me la racconti però è il derby il derby col Catania no? lì ha un sapore particolare perché fai questa faccia? perché mi viene in mente se non vado errato eravamo in via Ingegneros all'epoca la Digos diede l'altolà per andare a Catania difatti nessuno organizzò io all'epoca facevo parte dei Warriors se non ricordo male eravamo circa 84 partimmo uguale partimmo uguale ci fermammo a piazza Montessori dove c'era la zona dove loro facevano posteggiare i pullman venne la Digos ah ma voi di qua di là di sto verso di sta maniera non potete di qua di là ci fu qualche benpensante che aprì il cassone del pullman eravamo qualche un po' di armamentario diciamo attrezzatura del mestiere attrezzatura del mestiere tra cui tipo c'era Sesto il nostro rappresentante all'epoca questa donna della Digos si fa dice noi adesso vi lasciamo da soli non ne aspettavamo altro tant'è vero che poi loro ci lasciano da soli e andammo ecco poi come finì finì stare lì a raccontare gli anedoti il derby col Catania ha un sapore particolare ha un sapore particolare però ti posso dire che io rispetto loro malgrado li contesterò li combatterò a vita ma io li rispetto loro perché hanno dato dimostrazione alla stessa maniera di come noi abbiamo dato la nostra dimostrazione di essere attaccati alla loro maia alla loro città alle loro radici ed è questo che conta cioè non vendersi li rispetti ma li attaccherai calcisticamente diciamo sempre è detto cioè anche adesso che diciamo che tu vai essere ultra io ti dico una cosa negli anni passati ci fu il funerale di Massimino e andammo io l'avvocato Palazzolo Sesto Johnny e Giovanni Ferrara sarebbe molto lungo da raccontare tutto quanto però ti posso dire che c'era una parte di loro che volevano farci la festa e un'altra parte che hanno capito che cosa significava la nostra presenza là e ci hanno anche tipo elogiato tant'è che vennero da noi ci portarono al bar grazie di qua grazie di là e così andò poi successe che purtroppo recentemente è morto Ciccio famoso e Ciccio mi è stato detto che voleva parlare assolutamente con me perché voleva conoscermi di presenza per capire come mai noi poi in realtà tipo non ci siamo mai potuti incontrare per certi versi e io mi sono sentito in dovere di andarci perché era giusto rispettare la persona per ciò che è rappresentato non solo per Katana ma nel panorama ultras nazionale perché anche lui come me nella mia parte aveva fatto la sua e questa è una forma di rispetto poi in battaglia tipo tu mi insegni che nella prima guerra mondiale c'è stato un giorno di Natale che le armi si sono fermate e i soldati fra di loro si sono anche scambiati i doni alla scadenza dell'ultimatum e poi hanno ricominciato di spararsi fra di loro e così è è la vita e questa è la prima parte della nostra lunga intervista con Totò Rambo noi ci salutiamo qui non vi perdete la seconda parte perché parleremo di Giarre parleremo di Fiorentina di Caserta e di quello che Totò Rambo fa oggi alla prossima